Dio mi sta bene, e anche la patria e la famiglia. Ma il trilogismo Dio, patria, famiglia non mi sta più bene. Dico no a quel Dio usato come cemento nazionale, a quella patria spesso usata per distruggere altre patrie, a quella famiglia chiusa nel proprio egoismo di sangue. Non mi riconosco tra quei cittadini ligi e osservanti che vanno in chiesa senza fede, che esaltano la famiglia senza amore, che osannano alla patria senza senso civico. Margherita Hac